Come ogni anno Antonio Cantafora viene a trovarci nei nostri studi. Io vorrei parlare oggi nella prima parte della tua arte pittorica. Com'è cambiata Antonio? Io penso sempre a questo, sono sempre nelle visceri di Pitagora, della terra. Ti ho detto un po' fa che stavo scrivendo questa sceneggiatura e sto quasi per finirla, però mentre io scrivo sto facendo dei quari, adesso proprio sulla mente in psicosi, sulla trasmunicazione dell'anima, quello che il nostro maestro praticamente credeva. Questa è una sensazione, non so che ciò che mi è venuta così da solo, non so perché. Mentre stavo in studio ho cominciato a fare delle cose che spaziavano, andavano in aria. Forse dopo che ho fatto anche questo quadro Avatar per la Twin Two Century Fox. Dopo di questo mi sono reso conto che c'era qualcosa ancora di più. e poi quando si arriva a una certa età uno pensa pure dove andiamo a finire, che cos'è. Allora questa è una spinta, un salto verso il vuoto, verso qualcosa che io sto cercando dentro di me per arrivare veramente, non so se è una paura oppure un presentimento. Certo uno quando campa dice ma chissà quando muoio, chissà, non si sa, è un mistero, dove vado, non si sa. Però dobbiamo credere, dobbiamo, tutte queste religioni monoteistiche che ci stanno nel mondo con quello che sta succedendo specialmente oggi, uno penso che si debba avvicinare più a quello che è l'esatorismo, il movimento proprio dell'uomo attraverso il vuoto, attraverso l'universo. Ecco questo tuo studio, questa tua riflessione ti ha portato a trovare risposta? Beh sì, ho trovato la risposta attraverso la realizzazione delle opere che sto facendo che poi magari tu potrai mostrare, vediamo così. Ed è una sensazione molto bella perché vedo, mi dà molto coraggio anche a vivere, andare avanti, così, parlare con i miei amici e fare delle sedute anche nel mio studio dove vengono persone e parliamo di questo, perché hai scelto questa cosa? Ho scelto questa cosa perché la sento, mi è venuta da sola. Poi forse perché dentro di noi c'è la Magna Grecia, c'è Pitagora, non lo so, certo uno sempre trova questa scusa, dice c'è Pitagora, questa cosa, Crotone, la Magna Grecia, però non è vero perché io quando sono partito a Crotone sempre ho avuto questa sensazione da tanto tempo che mi spinge verso questo orfismo, questa metempsicosi, che la trovo molto interessante anche perché la vita è un mistero e nessuno sa dove andiamo. Ti sei dedicato anche al doppiaggio se non sbaglio? Sì, adesso sto facendo dei turni di doppiaggio anche perché in alcuni film mi hanno doppiato e allora adesso mi piace fare proprio doppiaggio per allenarmi, soprattutto quando poi recito sono pronto. Mi hanno doppiato certe volte perché magari io dovevo fare il siciliano, allora la produzione diceva ma tu sei calabrese, non ce la fai, se fai il siciliano magari finito, si senta e allora ho dovuto soccombere, però a me mi dà fastidio questo fatto perché la mia voce è stupenda e in molti film abbiamo fatto la diretta e sono andato benissimo anche con questo fatto. Adesso sto facendo doppiaggio perché mi piace e poi guardo anche un po' di soldi, nell'attesa che arriva magari un bel film, un ruolo, perché ti offrono dei ruoli adesso piccoli, delle cosine che a me, io ho fatto tantissimi film, ho fatto quasi 70 film da protagonista a non protagonista, western, dei cameroni, film di tutti i colori, è una grande esperienza. Adesso prima di lavorare e fare qualcosa di buono aspetto, faccio pittura, finché arriva magari nel cinema un ruolo buono. La scenografia tu stai scrivendo? Io sto scrivendo questa storia, sì. Quindi hai voglia in qualche modo di metterti in gioco anche da questo punto di vista, insomma? Sì, beh, dopo tutta la mia esperienza cinematografica e pittorica vorrei arrivare alla regia, anche perché ormai ho una certa età, ho una certa esperienza, so, tutti i movimenti della macchina. E questa sceneggiatura è quasi pronta, solo che poi purtroppo bisogna trovare i produttori, e trovare i soldi e convertirli proprio in questo tipo di film. Come è cambiato il mondo del cinema, secondo te? Una volta si premiava molto la meritocrazia, oggi? Ma oggi è tutto diverso, perché c'è molto, proprio sembra una cosa di routine, vedi tutte queste fiction che fanno, è diventato... Secondo me il divo è scomparso in Italia, non c'è più il divo. Prima c'erano i divi, non so, ma c'erano Masturiani, poi tutti i divi americani, il neoralismo. Adesso è come una macchina, fanno queste serie televisive, quando tu le vedi è tutta una ripetizione, sembrano degli automi, sembrano dei robot che recitano così, ma non c'è questa anima che c'era prima, questi ding negli occhi che mettevano, tipo Mara Liendrici, Casablanca, tutti questi film stupendi che tu... Io ancora li guardo in bianco e nero e vedo delle cose stupende, vedo delle espressioni. Adesso c'è un ritmo che è cambiato, un ritmo proprio di... Non lo so che succede, però speriamo che riprendiamo qualcosa. Sì, questo nostro italiano ha vinto, Sorrentino ha vinto l'Oscar con questo film, però a mio parere era bello il film, però è tutto Fellini. Io ho lavorato con Federico Fellini, conoscevo il maestro, anche lui dipingeva, e ci scambiavamo delle idee, lui era veramente un personaggio stupendo. Nell'intervista ha fatto un ruolo, però secondo me è molto scopiazzato questo film. È bello perché fa vedere tutta Roma le opere d'arti e queste cose stupende. Comunque si va avanti così, speriamo di tornare. Io penso, a me piacerebbe proprio ritornare al divismo, vedere questi primi piani, queste cose stupende, queste facce che c'erano prima. Adesso invece no, le macchine sono tutte così, è tutto così effimero, non so, a mio parere. Quindi la tua grande passione rimane il cinema? Beh, il cinema è mia moglie, la pittura è la mia amante. Pittura vengo da mio padre, da pittore, mio nonno. Non so se nel DNA, che poi io quando ero piccolo a me dalla pittura non me ne fregavano più niente, perché mio padre, anzi, quando si incavalava mi tirava tutti i pennelli tutti dietro, perché io non andavo a scuola, però proprio a me l'odore, la cosa della pittura, mi dava fastidio. Quando sono arrivato a Roma ho cominciato a frequentare Novella Parigini, Cagli, Gottuso, ho cominciato, andavo in questi studi, piano piano c'è stata un'assimilazione involontaria, che poi si è trasformata. Allora ho cominciato proprio a avere una febbre con questa pittura. non so, forse nel DNA, ma ho fatto, io ho lavorato quasi vent'anni con la Twentos Century Fox, e tu sai benissimo che ho fatto 200 quadri dei film più importanti, da Avatar, Tutti i pazzi del Mary, La sottile linea rossa, ho fatto tantissimi quadri dove stanno tutti agli uffici, alla sede principale sulla salaria della Twentos Century Fox, ci stanno tutti i quadri miei, anzi ultimamente è arrivato uno della Sony, che era il primo metro Goldmeier, praticamente è stato assorbito dalla Sony, hanno visto i miei quadri, questi operatori stanno organizzandomi una mostra proprio a Osaka e in Giappone, e questo per me è una grande soddisfazione, il Giappone anche perché per me è un mondo così completamente diverso dal nostro. Certo, dobbiamo anche dire quindi che l'arte per te a 360 gradi passa attraverso diversi settori, però in ogni caso oggi la pittura ti attira e ti dà la possibilità di tirare fuori anche la tua anima. Beh sì, questa è una grande soddisfazione, tutta l'adrenalina che io sprigiono attraverso la pittura, poi mi sento, quando finisco un quadro mi sento proprio bene, è come svuotare dentro di me l'anima, mi sento, se non avessi questo sarei veramente forse già morto, questa è una cosa tra il cinema e la pittura mi danno proprio questo esplorare di vita, io lo vedo, quando finisco un quadro, quando ho fatto Avatar, tre metri per due della Fox, anzi ne ho fatto due quadri, uno è questo grande occhio col drago e l'altro quella donna con gli occhi gialli bellissimi, quando sono andato a letto mi sentivo proprio, era una levitazione per me, era sollevarmi dal pavimento e andare verso, poi perciò mi è venuta in mente questa cosa sulla levitazione, sull'orfismo, anche perché a Palazzo Cantaforo, dove stavo io, vengo da una discendenza di preti, di monache, c'era una monache, c'era una suore che gli davano il mangiare, lei lo metteva in un cassetto, quando era putrefatto se lo mangiava, mi raccontava mia nonna che un giorno l'ha vista mezzo metro sollevata dal pavimento, ma è andato in levitazione, è un mistero come tutto il mondo, è un mistero, perciò quello che sta succedendo oggi, non so se è un fatto biblico, stiamo ritornando alle crociate, però ci stanno questi cani sciolti che sono molto pericolosi, specialmente per i nostri figli, e bisognerà fare qualcosa, forse bisognerà secondo me fare una grande pace, una grande soluzione di pace, perché più con la guerra andiamo e peggio è, non bisogna buttare una bomba atomica e distruggere tutto, bisogna proprio capire il significato, perché c'è questa cosa. Tu stai facendo riferimento già due volte a questo fatto qua, del grande caos mondiale, di questa guerra che ormai ce l'abbiamo anche in casa, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, però in tutto questo tu continui a dire, bisognerebbe creare una società di pace, e quindi un incontro tra religioni, per poter evitare di arrivare poi a momenti, diciamo, di grande crisi e drammatici. Secondo me si bisogna proprio cercare di pacificare, di unire, cercare di fare delle cose più positive, invece di agguerirci, perché ogni volta ho visto col bombardamento, tutto quello che è successo, dopo si sono vendicati in Francia, adesso cominciano pure nei piccoli centri, è una soluzione difficile, ma io penso che l'amore e la pace è la cosa più risolutiva che possa darci. Allora, tornando ai tuoi quadri, una domanda che ti faccio riguarda proprio le tue ultime creazioni. Ecco, quanti quadri hai fatto, e soprattutto tra questi c'è anche un quadro che è, diciamo, la tua immagine, no? Beh, quella mia immagine è molto hollywoodiana, diciamo, appunto è quello che dicevo prima nei primi piani degli attori, come erano, infatti ho fatto una mostra, l'ho presentata, l'ha visto pure Franco Nero, che è venuto in una galleria a vederla, ha detto, ma questo è Hollywood, dico sì, Hollywood, con chiazze e macchie di oro, questo verde, questo coso, che proprio raffigura il primo piano, quello che ti dicevo prima, il divismo, no? Il divo, che adesso è sparito, perché io non vedo questi divi. Infatti, infatti, quindi quanti quadri hai fatto ultimamente? Ultimamente l'ho fatto in questi, tu dici, in un anno. In questo anno? In questo anno l'ho fatto una ventina di quadri. Hai già fatto un'esposizione a Roma dei tuoi quadri? No, non l'ho fatta, perché io tutte le mostre che ho fatto, non voglio fare mostre piccole, mi piace fare delle mostre più interessanti, ho fatto delle mostre a Los Angeles, per esempio gli angeli, di San Michelarcangelo, che uno di questi angeli sta a John Hopkins Hospital di Battimora, che è l'ospedale contro i tumori, e c'è questo angelo, San Michelarcangelo, che è stato comprato durante il raduno dell'oncologico di Los Angeles, di un dottore. E poi ho fatto mostre, mentre facevo un film, vacanze di l'antanio 90, ho fatto in Svizzera, ho fatto altre mostre, una a New York, una a Ginevra. Mi piace più, non so perché andare all'estero a fare delle cose, anche perché noi italiani all'estero siamo visti... Con più attenzione. Sì, anche a Praga ho fatto, a Praga ho fatto il teatro tenda e recitavo, che era una cosa per me stupenda, ho messo i quadri e recitavo, ho venduto pure qualche quadro, e allora mi è salita l'adrenalina, perché dico, vuol dire che la cosa che si comprende l'arte. Anche perché quello che mi hanno dato, il compenso che ho recitato, erano quattro soldi, loro c'erano le corona, le cambie in euro, e dico, che me ne rimane bene, però è la soddisfazione che ho trovato questo mio amico, attore di teatro, molto bravo, molto... Mi ha detto, dai Antonio andiamo, allora dico, ma siccome ho prodotto dei quadri, ho recitato, ho messo i quadri e non ho venduto qualcuno. Ed era bello, poi adoro Praga, adoro la cultura di Praga, adoro Antoni Vozziak, Jan Nacek, adoro quando Mozart andava là, adoro il re, dove c'è il raduno più importante del mondo sulla chimica, su tutto quello che era... Ci sono delle cose molto strane a Praga che prima le stavano curando di più, adesso poi mi piace molto il cimitero ebraico dove c'è Kafka, Milan Kundera, ci stanno delle storie veramente belle nel mondo che io ho scoperto, che ho girato moltissimo, che il film è stato in Cina, in Brasile, ho fatto Gabriella, in Cina ho fatto i supermen in Cina, anzi volevo scappare, appena ho visto quelli che facevano due salti, di chi? me ne vado, grazie, dice no ma vedrai Antonia, piano piano facciamo, poi sono rimasto in Brasile, sono stato in Marocco, sono stato con Franco Nero, ho fatto Sara Cross, ho fatto... hai girato il mondo, hai girato tutto il mondo, adesso sono un po' stanco, però la mia mente è molto sveglia, molto viva e molto... speriamo di concludere questa mia vita è una cosa molto buona, esoterica. Grazie. Prego. Grazie.